tele durruti chissà se questa se in questa libreria la libreria pugaciov di roma di questo non l'ho mai comprato donne di roma chissà compiere testo di per paolo pasolini chissà se in questa libreria il fascista potrà soddisfare il suo il suo bisogno di conferme rispetto a ciò che è rispetto a se stesso facciamo un passo indietro 1900 metti 72 73 compagni di classe fascisti noi fascisti non lo eravamo ogni discussione con questi ragazzi che ritenevano che il fascismo fosse stato cosa buona e giusta ma soprattutto sconfitto per altrimenti sarebbe ancora nel 1972 con raffaella carrà e il quartetto cetera e tutto quanto lo avremmo ancora avuto presente dicevano perché voi non avete letto e nominavano un libro e io adesso voglio vedere se questo amico può soddisfare questo mio bisogno di fascista ipotetico fascista che giunge quindi la rifacciamo dall'inizio così usciamo e la facciamo ecco qua buongiorno 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 gentile libraio io cerco il libro che noi fascisti come dire ci conforta perché quando qualcuno dice mussolini era un farabutto noi possiamo rispondere perché voi non avete letto chissà se lei ha modo di dar di fornirmi questo libro il libro è il libro per definizione ma per caso quello di trizzino navi e poltrone del ammiraglio credo uno ufficiale di ufficiale d'aviazione antonio trizzino pubblicato da lunganesi navi e poltrone quello è stato stampato parecchie volte però è tanto tempo che non esce più quindi solo io posso averlo in realtà beh non solo lei perché è stato un best seller è perché come dicevano i fascisti perché voi non avete letto navi e poltrone navi e poltrone allora vediamo mostriamo vediamo se c'è navi e poltrone lo straordinario navi e poltrone questo è cesare pavese carlo dossi vita di alberto pisani che è un'autobiografia e gli si chiamava no non mi dica navi e poltrone per chi non lo sapesse perché dovesse ignorarlo ritorniamo agli anni 70 non c'era fascista che ogni qual volta gli veniva obiettato che il fascismo era stato fogna ti dicesse perché voi non avete letto navi e poltrone esatto esatto concordo pienamente cosa viene a 10 euro 10 euro facciamo 5 facciamo 5 te redorruti poi una volta spiegheremo perché navi e poltrone diciamo è qualcuno domanderà subito ma è un motivo allora lo diciamo adesso perché il fascismo sarebbe stato ancora con noi tu devi immaginare che l'edificio di roma dove ci trova adesso il ministero degli esseri degli esseri la farnesina era destinato a diventare la nuova sede del governo bene il fascismo già si immaginava proiettato negli anni 50 con i film con ava gardner e ma tutto questo non fu possibile perché e lo spiega navi e poltrone perché super marina era infiltrata dai dalle spie e i sabotatori se super marina che diciamo l'organismo che sovrintende la marina non avesse avuto questi queste figure meschine il fascismo sarebbe rimasto in piedi teledurruti grazie liberia pugaciov roma facciamo 3 euro dai salutiamo facciamo 3 euro